Il palermo regionale 74.11 di Pernodaria delle ore 10.06, proveniente da Roma e Fortina, il diretto Cesano di Roma arriverà con un ricardo previsto 10.00. Il palermo in Pernodaria delle ore 10.11, proveniente da Sesto di Delante e direttore a Napoli centrale Cese, è pubblicare le ore 12.11 di Pernodaria, Sì, 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 sì. ...e la più vicino aeroporto e direttore alla Samina, del dove le gine aziendici e i portali. Attenzione! ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.